Assessore, questa mattina riunione in provincia fra l'ufficio per la ricostruzione, i comuni del cratere e la sovrintendenza per capire come snellire le procedure per la presentazione dei danni del terremoto. Ma entriamo nel dettaglio, cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo. Allora, l'USR ha convocato una riunione apposita per spiegare quale che sono le modalità di espletamento è tutto l'iter istruttorio che riguarderà le pratiche presentate per la ricostruzione dei danni ottenuti, ovviamente subiti all'esito del sisma ed è una piattaforma digitale denominata MUDE che poi sarà oggetto di una serie di inserimenti, di pezzi di pratica per essere in maniera più brutale che vengono inseriti telematicamente e poi vengono collazionati e ovviamente poi all'esito di questa istruttoria l'USR rilascerà l'accesso al contributo erogato per la pratica. Chiaramente i termini sono almeno quelli previsti, noi auspichiamo che poi siano quelli che in realtà si verifichino dovrebbero essere di 20 giorni più 60, quindi in totale di 80 giorni dall'attivazione della piattaforma è ovviamente un auspicio che questo termine sia poi non solo rimanga un termine ipotizzato o scritto ma che sia poi un termine praticato, questo è l'auspicio che io mi sento di augurare all'USR e di augurare ai comuni che partecipano e soprattutto per quelle che sono le esigenze e le necessità dei cittadini che insomma non dobbiamo dimenticare e da tutto questo processo poi deve emergere uno ed un solo risultato che è quello della speditezza, della trasparenza e dall'effettività del contributo attribuito quindi questo è quello che poi i cittadini ci chiedono, il resto è assolutamente tecnicalità e superfetazione normativa sono tutti temi che poi interessano poco a chi poi deve avere ovviamente, saspettando da tempo di poter essere rieimmesso nella propria abitazione che è il luogo dei propri cari, è il luogo dei propri affetti è il luogo nel quale probabilmente si sono vissute le proprie vite